Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Fortnite per andare a fare una random skin challenge decisamente speciale e importante perché oggi andremo a fare la random skin del capitolo 2 challenge infatti ragazzi ho selezionato le 6 skin dei vari pass battaglia che ci sono stati durante le stagioni di questo secondo capitolo ho selezionato appunto le 6 più importanti di ogni stagione e ovviamente ragazzi da le stagioni sono 8 ma le skin scelte sono state 6 come capite bene 2 stagioni sono state tagliate le stagioni tagliate ragazzi sono state la prima, la prima stagione perché di fatto non ha portato personaggi importanti per il mondo di Fortnite ma comunque per ricordarci la prima stagione ho messo un piccone della stagione 1 del capitolo 2 e la 5, la stagione 5 ragazzi perché anche lì si c'è stava se non sbaglio il Mandaloriano, quella roba lì ma non è che mi andasse proprio tanto a genio, cioè diciamo che ho preferito queste altre 6 che sono 6 personaggi molto importanti poi per carità Tony Stark è stato importante solo praticamente per la sua di stagione però ragazzi Tony Stark è Tony Stark poi ovviamente la regina non ha bisogno di presentazioni Nida non ha bisogno di presentazioni stessa cosa per l'agente Jones, la dottoressa Sloan e Jules prima di continuare quel video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT tutto grande, tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite mi raccomando ragazzola è davvero fondamentale per supportarmi quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGYT tutto grande, tutto attaccato perché ogni 2 settimane il codice scade e dovete reinserirlo grazie a vero di cuore a chi lo farà soprattutto in questo periodo dove ci sarà il cambio stagione quindi uscirà il nuovo pass, tante altre cose nuove e quindi sarà fondamentale per supportarmi grazie a vero di cuore a chi lo farà appunto mi raccomando lasciate un bel mi piace iscrivetevi sotto nei commenti qual è stata la vostra stagione preferita di questo secondo capitolo di Fortnite e qual è stata la vostra skin preferita dei vari pass battaglia di questo secondo capitolo di Fortnite ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere vi vado a spiegare cosa devo fare a seconda della skin che ci capita allora, Tony Stark, posso lutare soltanto le armi che ci danno le super chest quelle che si trovano nelle basi OI e posso prendere le armi dagli scagnozzi OI perché mi ricorda un po' le Stark Industries dove c'erano le mega chest della Stark Industries e gli scagnozzi la regina ragazzi, devo andare al centro, alla piramide non posso uscire finché non sono costretto ad uscire per colpa della tempesta magari perché potrebbe essere fuori safe e questa challenge ragazzi è difficile più che altro per i materiali perché non potrò lutare materiali Mida ragazzi, col Signor Mida è un po' particolare perché devo andare allo squalo c'è proprio il punto di interesse allo squalo e poi devo andare ad uccidere uno squalo e qualsiasi oggetto ci darà quello squalo lo dovrò tenere per forza nell'inventario finché magari poi non lo utilizzo se magari sono altri pesci e altre cose finché non lo utilizzo eccetera eccetera proprio per ricordare che poi è stato mangiato dallo squalo ho cercato di ricondurre tutte le skin a qualcosa dove le possiamo rivedere in qualche modo è stato difficile ma più o meno ce l'abbiamo fatta con l'agente Jonesi posso andare a lutare le armi solo nelle zone in cui è presente una delle copie dell'agente Jones sapete che ci sono le varie copie quindi per esempio il Jonesi Oscuro che è a Moli oppure quello che sta vicino Castello Corallo attualmente ce ne sono due quello sub e quello scuro la dottoressa Sloan ovviamente devo andare a prendere il fucile mitico il vampo fucile mitico dalla dottoressa Sloan e con la carissima Jules posso lutare solo e soltanto le armi dell'isoletta in cui era presente l'NPC di Jules detto questo ragazzi una delle intro più lunghe della storia ma vi dovevo spiegare tutto quanto e ovviamente spiegare cosa dovevo fare per ogni skin ed erano pure 6 andiamo a mettere la skin casuale equipaggiamo e attenzione si inizia con la regina dei cubi andiamo a mettere pronte e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare come vi stavo dicendo già durante l'intro ragazzi la parte difficile di questa challenge è più che per il lutto perché comunque alla piramide c'è parecchio loot per quanto riguarda le armi sarà complicato lutare materiali perché non se ne fanno ovviamente alla piramide sarà quella la parte difficile di questa challenge poi come vi dico sempre con le cure posso fare un po' quel che voglio ma le armi posso utilizzare solo e soltanto quelle che troverò appunto alla piramide e in più dovrò rimanere alla piramide finché sarà in safe appena vedo che la safe sarà lontana e che quindi sta per arrivare la tempesta potrò muovermi ok regà allora la safe è a favore quindi devo rimanere appunto alla piramide per il loot per adesso non mi posso lamentare vorrei giusto trovare un pump leggermente più forte e per i materiali ragazzi sto cercando di prenderne il più possibile da terra così almeno da averne un po' perché altrimenti non lo posso praticamente lootare e dato che i mini shield non si fan trovare mi metto due shieldoni ah regà passi bisognerebbe capire a che altezza non vorrei sprecare i mazze regà però mi sembra sopra sì 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 è sopra è sopra è sopra è sicuramente sopra ma non posso sprecare i mazze ragazzi no il mecha sta arrivando sta arrivando un mecha no non ci credo sta arrivando proprio qui alla piramide questo mo' scende a pusharci sta scendendo a pusharci ma regà non l'ho visto regà vi giuro non l'ho visto l'ho lisciato di brutto ma ah no non posso prenderla non posso prendere la sua arma non posso prenderla oh mio dio regà ma non l'avevo minimamente visto e il mecha ci ha puntato di brutto però per fortuna il mecha non si può muovere troppo liberamente in questa zona infatti di solito il mecha qui alla piramide non si vede quasi mai cioè non è facile muoversi con un robo del genere in spazi così stretti insomma no 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 non l'avevo visto niente regà oggi si ho ciecato non l'avevo visto se stava spostato verso di qua ah regà c'ho quello si è messo in cima alla piramide ma no ok adesso si sta spostando no oh mio dio oh mio dio ragazzi è cattivissimo è cattivissimo ok ah era mia tol pensavo di essere chiuso lui ok io ragazzi vorrei arrivare a farmi lo shieldone in realtà oh mio dio raga no regà pensavo di essergli sceso in testa ma come 34 ma come solo 34 e non posso neanche lutare lo spaz ma come solo 34 ragazzi da così vicino con un leva blu no regà dai presa male niente ogni volta devo spammare con questo per cercare di fare qualcosa di carino col pump ragazzi prima l'ho lisciato completamente ve lo dè prima questo io ho fatto solo 34 da così vicino e lui mi ha devastato ovviamente allora qualche medikit in giro ragazzi per la piramide l'ho lasciato il problema è andarle a ritrovare no e vabbè eh oh mio dio ah sta di là eh 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 io più che altro mi vorrei andare a oh ecco lo medikit ma ma eh eh mi ha distrutto ragazzi ma mi ha laserato di brutto da lì giù ma di brutto proprio mi ha laserato ragazzi cioè gg per lui che mira detto questo andiamo a rimettere pronto vediamo un po' qual è la prossima skin attenzione ah è ok stavo a dire di nuova regina Tony Stark regà quella di Iron Man potrebbe essere una delle più complicate ve la ricordo posso lootare soltanto le armi che trovo nelle super chest quelle dell'OI e solo le armi delle guardie OI che vado sostanzialmente ad uccidere per non aver problemi di safe ragazzi me ne andrò a questa qui centrale dove comunque ci dovrebbero essere almeno un paio di super chest spero ragazzi di trovare almeno un pump così almeno ce la capiamo in un modo o nell'altro mentre per quanto riguarda le cure come al solito per quelle vi ricordo che posso fare un po' come voglio no non ci vedo ci sta venendo mezza lobby il problema è che io non posso neanche prendere un'arma al volo e sparare cioè io devo prendere per forza no ma dove sono atterrato in che senso sono atterrato no vabbè vabbè ragà allora scappo non posso prendere armi perché non posso prendere alcun tipo di arma e provo ad andare lì a quella lì spero che non ci sia no c'è già atterrato qualcuno ma che è tutta sta gente che atterra le basi OI scusate ma da quando ragà la cosa bella è che anche in sti posti un po' più sperduti c'è una marea di gente ma io mo dove vado allora ho raccolto una jump ho fatto un po' di maz quindi posso mettere la jump ma questa no qui giù ma qui giù regà è dove è partito l'autobus quindi ci sarà un sacco di gente lì il problema è che mo tutte ste ceste saranno anche aperte quindi mi devo fare sta partita senza armi praticamente oppure devo andare ad uccidere una guardia OI ma come faccio ad uccidere una guardia OI senza armi oh mio dio dove posso andare regà no qui non è una base OI no ragazzi è troppo complicato fermi tutti niente regà il bello è che c'è anche ancora gente qui cioè fermi tutti un attimo ragazzi ma in che senso no regà sarà tipo impossibile uscirne fuori sarà impossibile uscirne da sta challenge come punto d'arrivo ragazzi mi sono messo la base OI lì giù ma non credo neanche di arrivarci o comunque se ci arrivo potrebbero averci anche già allutato no vabbè regà ma poi la cosa bella è che tutti quelli che mi vedono si stanno accanendo contro di me ma di brutto eh ma veramente tanto ma io non mi arrendo ragazzi io non mi arrendo allora regà a farcela ce l'abbiamo fatta ma mo il problema è uh non ci sta e abbiamo trovato anche il pump ce l'abbiamo fatta eh no però questa non è uscita dalla cesta oh mio dio eh mo che ce l'hanno con mi sa ce l'hanno con i dinosauri no questa è una cesta normale regà non posso lutarla possibile che ci sia soltanto una cesta grossa di quelle lì qua vabbè che è quella piccolina sta a base effettivamente eh devo uccidere lui devo uccidere no l'ho lisciato ok ma ah sto però ce n'è un'altra di guardia ok la R ragazzi no non mi lasciare gli shieldini por favor mamma mia regà mamma mia ragazzi ok ok regà cioè non so come non so come ma ce l'abbiamo fatta e siamo in carreggiata perché noi adesso ragazzi abbiamo tutto quello di cui avevamo bisogno un pump un assalto degli shield mi metto a lutare un po' di maz perché comunque quelli là ci servono attenzione ce n'è un'altra ci sono altri chest ma di quelle speciali intendo ah questa qui non era quella speciale eh ma manco questa mazza tre chest ci stavano non lo posso prendere non lo posso prendere che spiga non ci posso credere regà ma perché sono così fortunato durante ste challenge che non posso lutare come quando voglio oh regà ma c'hai fatto caso quando faccio ste challenge trovo le armi migliori del mondo poi però nelle partite normali niente però aspettate ragazzi perché io mi campero un attimo e voglio vedere se c'è qualche altra base vi che possiamo svaliggiare no perché la tempesta le sta oh no no aspettate c'è questa c'è questa ragazzi è un po' complicata da raggiungere per colpa delle montagne però ce la possiamo fare ragazzi con la macchina quella con cui sono arrivato che è andata a finire l'hanno distrutta se l'hanno distrutta vabbè gli rubiamo questa qui a quelli degli oi e via regà non ci speravo nemmeno io ma ci siamo arrivati ci siamo arrivati spero non abbiano lutato nemmeno qui regà aaaah chest normale ma non ci posso credere regà tutte chest normali ma mettete qualche altra ah no hanno lutato qui ragazzi eh no regà no 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 mannaggia la miseria sarebbe stato troppo bello sarebbe stato veramente veramente troppo 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 bello tanta roba ragazzi però vabbè allora ribadisco il minimo indispensabile lo abbiamo un pump un assalto e va bene così sarebbe stata tanta roba riuscire a lutare anche di qua però raga mettiamoci l'anima in pace va benissimo così ok regà c'è uno lì ah è shieldato è shieldato ahia c'è il coso eh ah scappa vabbè ci sta ci sta ragazzi che scappi ci sta ok regà ce n'è un altro qui eh no regà mi sta venendo dritto per dritto volevo provare tipo a laserarlo così esatto vediamo dove si sta ma ma no povero 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 me l'hai ucciso così ma ce n'era un altro che stava camperando qui ma non ci credo che cosa abbiamo appena visto ragazzi poverino è entrato nella dana del lupo questo qua poverino ragazzi allora aspetta un attimo perché se dovessi trovare un altro flopper mi prendi flopper regà molto buono il ricognitore ma oh mio dio oh mio dio ma con quanta cattività me lo state dicendo fermi un attimo perché poi ho sentito altri passi eh non c'era solo quello lì che mi ha pushato c'è altri altri passi fermi un attimo faccio una cosa del genere no niente eh vabbè rip niente volevo salire da lì ma vabbè ecco là sopra raga sta là sopra no solo 25 vabbè mannaggia speravo di fargli molto più danno va bene ok raga qua ci sono passi come come non l'ho hitato come non l'ho hitato raga non ci credo 76 di vita se mi fosse entrata quella hit ce l'avrei fatta no ragazzi non ci credo questa era stata la partita più epica di tutte non ci meritavamo una morte del genere raga non ce la meritavamo una morte del genere vai di no raga la dottoressa Sloan andammo se appia sto vampa pucile mitico non sarà facile allora raga io direi di andare ovviamente da la dottoressa Sloan un po' preparati perché tra le guardie tra le che poi se sdoppia usa la moltiplicazione del corpo di Naruto eccetera eccetera direi che un po' di preparazione ci serve quindi io punto gattogrill luto un pochino a gattogrill e poi subito dopo vado al cavo ci metto poco ragazzi ovviamente se poi qualcuno arriva prima di me e fa un po' di roba prima di me diventa brutta la situazione ok però qualcosa la devo prendere se no è inutile che vado lì col piccone che gli racconto una barzelletta ok siamo in safe regà pare non sia venuto nessuno quindi possiamo in realtà prendercela con un po' più di calma ma ribadisco non troppa anche perché ho paura che magari qualcuno ci stia già andando lì dalla dottoressa Sloan vorrei cercare giusto qualche shield shieldino così per stare un po' più tranquillo con la vita regà perché se no quelli ce l'aserano proprio eh ok regà siamo pronti direi che ci siamo possiamo andare dalla dottoressa Sloan il nemico più potente di Fortnite allora non ci sono regole sul nostro attacco quindi in realtà posso fare un po' quel che voglio quindi io farei una cosa del genere e lo attacco dall'alto e una guardia la tiriamo giù così no in realtà scherzone perché guarda come si nasconde bene guarda come si era nascosto bene ah vediamo se esce l'altra guardia dai amico mio ok ha già fatto le copie la dottoressa Sloan allora eh in realtà non gli vorrei far rianimare niente nessuno questa dovrebbe essere quella vera regà c'ha troppa vita potrebbe essere già quella vera ma io sto già a finire i colpi regà potrebbe essere già quella vera regà questa qua sì let's go ma infatti mi sembrava strano c'aveva troppa vita ragazzi ce n'aveva veramente troppa detto questo ci prendiamo lui e lui per adesso ok e adesso ci possiamo giocare la nostra partita la parte difficile della challenge è andata ragazzi oh no regà passi da una parte e dall'altra ah ma si stanno faietando tra loro meno male pensavo stessero a push a tutte e due me non ci credo stavo per fare un'ottima hit regà peccato oh mio dio no che sta facendo dove sta spaccando ah ok pensavo facesse la pollata ma regà guarda com'è dita rapido fenomeno regà se faceva prima lui con la mitraglietta che io col pump che gli avevo tirato una volta tanto un'ottima hit vi giuro giocavo solo con la mitraglietta per tutto il resto della stagione quindi per questa settimana sostanzialmente regà è la partita dei vampa abbiamo trovato pure quello viola tra l'altro non ci avevo fatto caso ma dobbiamo correre in safe purtroppo regà ma ma ecco perché si muoveva tutto strano per quello regà stavo continuando a dire ma ma perché si stava muovendo troppo strano che c'avevi una in mano comunque incredibile da vicino l'ho preso col vampa ma non lo stavo pigliando con il vampa incredibile comunque non scopriremo mai che cosa stava facendo questo qui ragazzi oh 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 no non mi fa billare qui perché sto in aria da dove è rientrato in casa è rientrato sta lì regà aspettate perché non l'ho preso se stava lì di quanto poco non l'abbiamo preso ma ha preso la pedana non ci credo non ci credo ragazzi siamo andati a tanto così dal fare due hit mannaggia la miseria eh regà la prossima safe è dritto a me e noi c'avevamo un avversario a destra e una a sinistra spero si facciano gli affari loro ok regà oh e vabbè niente solo una hit uh ah qualcuno c'ha il cecchino quello incendiario ragazzi ok anche se in realtà in tutto ciò ho ucciso quello che era messo peggio di tutti ma vabbè eccolo lì eccolo lì eccolo lì regà certo dovrei buildare in in pietra eh aspettate aspettate perché questo stazionente è arrivando qui no ha trovato qualcun altro regà buonissimo buonissimo ragazzi let's go voglio rimanere col cecchino regà in sta partita rimango con questo no ho distrutto il cespuglio no fail 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 ok oddio regà no ma sempre lui si let's go un altro headshot no però mannaggia gli ho semplificato la vita pure no di quanto mi vorrei provare a spaccare il pavimento mannaggia ragà questo è di poco però eh ah l'ha pushato un altro da dietro eh però noi pure dobbiamo stare attenti da dietro eh perché qui stanno ancora a pushà ah uno un fight è finito mi sa quello dietro di me in realtà purtroppo questi qua io avrei preferito che continuavano a pusharsi ragazzi vi dico la verità vi dico la verità in realtà sto rimanendo qui regà perché appena la safe si stringe io mi prenderò il lanciagranate onda d'urto perché poi a un certo punto il cecchino sarà inutile purtroppo oh niente quello non riesco a pigliarlo ragazzi mi ha fatto tutte belle hit ma quello proprio non lo riesco a pigliare quello là sopra io provo magari li prendo tra le strutture ma che ne so però questo ragazzi mi puzza troppo questo qua ok l'abbia l'è morto qualcuno mi sa di caduta caduta che ho letto il feed ah sta di qua sta ah no 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 ok sta tra quelle strutture no niente scherzone sta tra quelle strutture eh ok allora in realtà tenere il cecchino in un momento in cui anche un altro nostro avversario c'ha il cecchino potrebbe non essere sbagliato eh quindi comunque a prescindere potrei pensare di rimanere con questo però eh quello è il carnage che non riesco mai a prendere quello è il carnage che non sono mai riuscito a prendere però di qua ragazzi vorrei capire l'esatta posizione di quest'altro mannaggia la miseria eh il carnage si sta muovendo no si 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 è il carnage ok sta facendo il giro eh no quello regà sta in mezzo a quelle strutture non lo posso vedere non posso vederlo sta in mezzo a queste strutture di ferro però non so quanto mi possa convenire adesso fare il cambio a sto punto che so che un altro dei miei avversari c'ha il cecchino certo in uno contro uno questo mio cecchino che è il canone a rotaglia e il cecchino normale che è più rapido potrebbe essere uno svantaggio per me in realtà eh io ve lo dico se la butto lì aspetto che si chiuda ancora di più la safe aspetto che si chiuda ancora di più la safe e dopo magari faccio il cambio non so se loro sono in safe regà si si purtroppo si se non fossero stati in safe regà era un bel vantaggio per noi eh era un gran bel vantaggio per noi eh quelli secondo me rimangono lì belli camperati no si stanno sparando regà sta partita sta diventando un commentary a quello che stanno affasti due ok uno l'ho visto lì ho preso la roccia vabbè vabbè prima il cespuglio mo la roccia let's go 85 rotto shield vedete perché finché loro stanno laggiù a me conviene tenermi sto cannone a rotaglie però non posso stare fermo perché anche uno di loro c'ha il cecchino quello è il problema eh allora ok la safe sta qui vicina eh però sta lì e mi ha visto quindi non mi conviene tanto adesso espormi perché eh guardate pure quell'altro si è aperto la finestrella con tutte e due terranno d'occhio me purtroppo raga quindi mi sa che è arrivato il momento mi sa che è arrivato quel momento tra l'altro raga con sta foschia non ce vedo niente cioè già soccicato di mio in più qua con sta foschia non ce vedo niente facciamo il giro al di là della roccia e anzi la risfruttiamo un po' così raga la risfruttiamo un po' così ragazzi miei raga mi tocca fare una roba del genere ma? non ho capito se era per pusharmi no mi sa di no mi sa di no raga sarà molto difficile sta endgame raga perché loro qua non vogliono rischiare nulla loro qua non vogliono rischiare nulla e niente si tiene lo volevo distruggere non dovrei prendere fuoco la pietra raga però devo stare attento oh mio dio ragazzi che endgame maledetto però quello si è chiuso le giampe ce l'ho però sapete che forse mi conviene tenere pronti muri corazzati mamma mia bianco l'ho messo bianco raga top grandissimo sto qua sotto di me ok ma chi è che c'è il cecchino infugato ah ma mi sa che è lui che ha sbagliato ma che sta sotto no lo vuole far cadere mi sa eh però non lo fai cadere amico mio ma come non è morto ma non è morto eh ok 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 let's go e ce la portiamo a casa dai dai sono contento che ci siamo portati a casa la random skin del capitolo 2 challenge e ce la portiamo a casa proprio con la dottoressa slon signori miei tanta roba sta partita ma più che altro le cecchinate mi sono piaciute e la laserata finale col vampa mitico mica male mica male signori miei anche se io mi sto ancora domandando che cosa voleva fare quello col kunai ma questa è un'altra storia io vi ricordo che potete utilizzare il mio codice creatore ggyt tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di fortnite fondamentale per supportarmi grazie a velo di cuore a chi lo farà soprattutto in questo periodo dove finirà questa stagione inizierà la prossima col pass battaglia e tutto quanto iscrivetevi al canale se ancora non è stato fatto per non perdervi tutti i prossimi episodi lasciate un bel mi piace e io come al solito vi ricordo che vi aspetto in live su twitch trovate il link in descrizione e ovviamente vi aspetterò anche per l'evento finale sabato sera sempre in live su twitch che faremo una maratona dal pomeriggio trovate il link in descrizione per me è tutto ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale oppure dopo in live ciao ragazzi